Incontro informale questa mattina in Sala Razzi del Sindaco di Verona Federico Sbuarina con i sacerdoti del Vicariato del Centro Storico. Un'occasione per incontrarsi e in un clima di serenità e di confronto mettere sul tavolo perplessità, progetti, richieste. Tanti temi toccati, difficoltà di spostamento ma anche buone pratiche nei giorni del Mobility Day per i fedeli, utilizzo degli spazi vicino alle chiese storiche di Verona per iniziative di intrattenimento e la ricerca di come coniugare manifestazioni legate al turismo e all'intrattenimento cittadino con gli appuntamenti ed il calendario liturgico delle diverse parrocchie che sorgono in Centro Storico. Un'iniziativa nuova per l'amministrazione comunale veronese che dimostra l'attenzione verso l'opera e l'attività formativa delle iniziative delle chiese della Diocesi di San Zeno.